Diego, iniziamo da te. Il tuo studio in quali campi di applicazione progettuale lavora? Allora, noi lavoriamo principalmente nel settore privato, per cui ristrutturazione e nuova edificazione, con una specializzazione nel settore del lusso e della commerciale, per cui negozi e boutique di gioielleria. E lì ci siamo conosciuti tempo fa, una bellissima serie di luoghi di punti venditari. Senti, il progetto che racconti oggi ad Archie Energy? Oggi parliamo di una ristrutturazione, di un piano di un edificio storico, un'ex cascina, un casolare della Piana Alessandrina, dove al primo piano e nella parte mansardata abbiamo fatto un recupero completo. È un progetto a quattro mani con un ingegnere termotecnico, perché era cliente, oltre che progettista, molto attivo nella parte progettuale e attivissimo per tutta quella che è la parte energetica e impiantistica. Noi ci siamo incontrati tempo fa, appunto, il tuo dialogo con queste figure degli ingegneri progettisti e anche di impianti è molto attivo, ti interessa molto questa parte. In questo caso, in questa abitazione, che cosa hai pensato dal punto di vista progettuale e poi generico, non solo sugli impianti? Intanto stiamo vedendo le immagini. Innanzitutto è stato un intervento abbastanza rispettoso dell'involucro esistente. Era un edificio in mattoni della fine del Settecento, mori molto spessi, dove bisogna intervenire. Bello inerziale. Bello inerziale, dove in una parte siamo intervenuti con degli intonaci, termo intonaci, un'altra con un cappotto. L'intervento è stato abbastanza conservativo, però con un intervento sulle solette, classiche solette in rotaie, come dicevo una volta, dove abbiamo eliminato una parte del solaio per inserire una vetrata per dare luce al piano inferiore attraverso dei lucernai sul tetto. Dal punto di vista impiantistico abbiamo cercato di utilizzare una caratteristica del luogo, che è quella della presenza dell'acqua, per utilizzare anche il geotermico, per cui un impianto misto... Acqua? 14 gradi? 12 gradi. L'utilizzo infatti è principalmente estivo, abbinato all'impianto di umidificazione adiabatica, in questo caso a quattro mani con l'impiantista, con il progettista, giocavo in casa, ma soprattutto in questi tipi di impianti è molto importante anche la perizia nella messa a punto, non solo l'installazione e la fornitura. Per cui in questo caso abbiamo un impiantista, progettista molto evoluto nella gestione di questi impianti e per cui abbiamo anche azzardato, nonostante le murature molto spesse, anche il raffrescamento, la gestione del clima, dell'aria, un tutt'uno per quello che riguarda il conforto ambientale all'interno. Ciò prima inerziale perché in luoghi di questo genere probabilmente appunto l'inerzialità è il termine corretto sia per il riscaldamento che per il raffrescamento, no? La casa è lenta. Nel bene e nel male? Sì, di solito è un bene perché comunque andiamo a recuperare quelle che erano le caratteristiche bioclimatiche della casa del cascinale, per cui le finestre piccole avevano una ragione, c'era tutto un equilibrio non solo formale ma anche funzionale. Per la dispersione del calore e per l'ingresso del calore anche? Anche per l'abbattimento della luce perché la gente passava la giornata nei campi per cui non è che voleva l'esigenza dell'illuminazione degli interni è un'esigenza abbastanza moderna. Senti, in questo caso giocavi in casa, parlavi la stessa lingua. Per altri committenti quanto questa idea di lavorare sulla transizione energetica e comunque di proporre al di là del progetto architettonico, in tiro eccetera, anche un progetto se vuoi di clima, no? È fondamentale, è fondamentale anche operare come istruttore per l'utente finale, per cercare di fargli capire l'importanza e la necessità, soprattutto anche noi ad esempio ci occupiamo anche di biodilizia o edilizia in legno, per cui edifici a basso emissivi, spesso però con poca inerzia, dipende un attimo come gestisci la parte progettuale. In questi casi è fondamentale che il pacchetto involucro si chiuda con un corretto e coordinato pacchetto energetico che poi va usato in maniera corretta. Quando si fa l'impianto si fa una residenza, si prevede, ci sono degli studi, ci sono ovviamente delle previsioni, però la messa a punto anche a seconda dei cambiamenti climatici, perché l'inverno che non è freddo ovviamente, no? Negli ultimi anni si registra, è tangibile la differenza, soprattutto ad esempio in ambito estivo. Certo. Abbiamo delle primavere corte. Dicchi, breakout, se sei collegato a una rete. Fotovoltaico, cose di questo tipo. Autoelettriche anche. Eh certo. Senti, invece è una parola chiave per te nel progettare, ma esiste un termine, una locuzione, una parola che ti ossessiona o ti esalta anche? In genere non è una parola, ma è comunque il cercare di valutare bene dove si è, per cui cercare di valutare il contesto, sia climatico che non solo estetico, di posizione dell'immobile. Certo, quindi il luogo detta legge, come dicevano i... Non solo normativa, ma anche... Sì, no, nel senso che guida il progetto, in questo senso. Sì, sì, indispensabile. Grazie Diego. Grazie a te. Grazie a te.